Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore con il West Ham e benvenuti in questa seconda stagione Allora come detto appunto siamo tornati proprio con la schermata qui del termine stagione quindi senza perdere tempo andiamo subito avanti e vediamo un po' la dirigenza cosa ha da dirci ci dicono che siamo giunti al termine della stagione la dirigenza non può che essere soddisfatta per i risultati raggiunti finora che ci hanno permesso di centrare gli obiettivi prefissati sia dentro che fuori dal campo inoltre i giocatori e lo staff sono chiaramente entusiasti di lavorare con lei saremo pertanto felici di averla ancora con noi anche nella prossima stagione cordialmente la dirigenza in pratica raga esattamente le stesse cose che dicevano anche l'anno scorso quindi andiamo avanti e andiamo un po' a vedere cosa ci offrirà questa seconda stagione ed eccoci qua si parte subito come al solito con il precampionato estivo con la scelta appunto della coppa abbiamo allora qui la coppa internazionale europea che presenta squadri forti eh? cosa ho detto? comunque presenta squadre forti come Lazio, Atalanta, la Real Sociedad, il Dortmund, l'Ipsia, il Siviglia tutte squadre fortissime comunque ricordiamoci che appunto abbiamo la Champions questa stagione quindi ci sta anche a affrontare squadre più forti sulla carta poi questo qui molto interessante con Inter e Napoli anche il Gladbach poi le altre squadre non sono nulla di che e poi o comunque teoricamente sono affrontabili per noi e infine abbiamo questo qui con il Real Madrid, il Southampton questo qui diciamo a squadre un po' più deboli io direi di scegliere proprio il primo proprio per confrontarci con squadre tecnicamente sulla carta più forti di noi quindi andiamo a scegliere questo qui che si disputa in, non ce lo dicono dove comunque credo in Spagna visto che ci sono più squadre spagnole comunque ragazzi siamo in Germania e non in Spagna il nostro girone sarà con Lazio, Atalanta e Real Sociedad quindi andremo ad affrontare subito due squadre italiane allora con calma innanzitutto un'occhiatina al calendario che ci sta sempre bene ok affronteremo prima la Sociedad poi l'Atalanta e infine la Lazio speriamo di passare il turno chiaramente per una questione monetaria poi il budget qua già vedo una barca di soldi addirittura 105 milioni di Euron di Euron soprattutto comunque tantissimi soldi anche troppi cerchiamo di mettere a meno 80-20 comunque abbiamo e come i soldi per costruire veramente una squadra stellare diamo un'occhio agli obiettivi anche se ragazzi ma stiamo scherzando allora per la Champions raggiungi le semifinali roba da matti le FA Cup stessa cosa invece in Premier vogliono che ci qualifichiamo un'altra volta per la Champions allora l'obiettivo in Premier ci sta mi piace però quello in Champions sinceramente è un po' infattibile si spera di raggiungere quello dell'FA Cup poi crescita giovani fai giocare almeno 30% delle partite della stagione successiva ad almeno un giocatore del vivaio acquistato durante la prima stagione entro due stagioni quindi nel nostro caso abbiamo solamente il terzino sinistro Burgess non mi ricordo come si chiama comunque poi acquisto un giocatore chiave nel ruolo di centrocampista o attaccante questo speriamo di farlo per l'attaccante soprattutto poi ottieni 10 vittori in casa questa stagione questo andrebbe fatto poi in Champions abbiamo già visto però fortunatamente ha una priorità bassa poi in campionato comunque in Padre abbiamo visto anche questo infine aumenta il valore del tuo club del 30% entro tre stagioni attraverso la cessione dei giocatori e ricapita le competizioni anche questo qui è fattibile adesso ragazzi è arrivata finalmente il momento di dare un occhio all'Hub rosa allora innanzitutto capitolo portieri abbiamo Martin, Trott, Lunin e Fabianski allora Fabianski sicuramente 36 anni sarebbe decisamente da mettere in vendita Lunin come primo portiere mi va più che bene quindi innanzitutto andiamo a che cosa sta fa donna perché fa tutto solo lui vi giuro che non ho premuto nulla comunque andiamo a mettere in vendita sia Martin che lo hai già e anche Fabianski a questo punto visto che 36 anni sinceramente mi sembrano anche un po' troppi poi capitolo terzini Masuaku, Burgess appunto il nostro terzino e abbiamo anche Tavares secondo me va più che bene abbiamo teoricamente Masuaku che è più forte rispetto a Tavares però diciamo che noi consideriamo titolare Nuno Tavares al posto di Masuaku quindi anche per questo anno questa coppia secondo me è un'ottima coppia poi anche col giovane Burgess che si spera che possa crescere tanto poi capitolo difensori centrali abbiamo Balbonat questo giovane Alise che è già in vendita Cardoso che è un giovane molto promettente però non mi ha impressionato in campo più di tanto con Bull e Diop che sono la coppia inamovibile e basta abbiamo solamente anche qui solamente 5 difensori centrali che appunto sono gli stessi dell'anno scorso si spera di vendere assolutamente Alise e a questo punto un difensore centrale bello aggressivo diciamo che potrebbe servire e poi ricordiamoci che i soldi ce li abbiamo quindi speriamo di riuscire ad acquistare e comunque a creare una bella rosa molto competitiva comunque Kufal che passerà al Tottenham quindi perfetto Ashby è sul mercato Johnson che come terzo secondo me è perfetto e poi abbiamo anche Fredericks che diciamo ha il contratto di scadenza 28 anni l'anno scorso ha giocato molto bene quindi può restare ma serve sicuramente un tensiono destro che abbia comunque molti attributi mettiamola così poi passiamo adesso ai centrocampisti abbiamo Rice che è diventato un 84 sempre più forte sicuramente non voglio venderlo anzi sono curioso di vedere quando diventerà ufficialmente un CC ormai ci mancano solamente 8 settimane ci manca poco fortunatamente perfetto poi Diallo che si spera di vendere Felipe Anderson che è tornato ma questo qui va messo subito in vendita perché diciamo è un ottimo attaccante sinistro però con un giocatore come lui preferisco sinceramente far cassa poi abbiamo come centrocampisti centrali puri tra virgolette Kamavinga che quest'anno si spera che possa esplodere anche lui visto che l'anno scorso è stato infortunato Kamenshi che come terzo va alla perfezione secondo me Mokieke che l'anno scorso ci è servito come tappabuchi però quest'anno si può pensare anche di mettere in vendita poi abbiamo Socek e Bellingham facciamo adesso un rapido calcolo proprio di numero allora di centrocampisti utilizzabile abbiamo Rice, Kamavinga, Kauenshi, Mokieke, Bellingham e Socek tra virgolette tutti quanti ne sono 2, 3, 4, 5, 6 allora diciamo che i titolari voglio che siano Rice sulla destra e Kamavinga sulla sinistra come sostituti Socek e Bellingham quindi Kauenshi come terzo va più che bene ma Mokieke come terzo visto che ha 30 anni è abbastanza inutile quindi diciamo è stato molto utile l'anno scorso però ora si può pensare tranquillamente di metterlo in vendita e poi raga non escluderei anche una cessione di Socek anche se sinceramente l'anno scorso mi ha impressionato devo dire la verità però sicuramente non partirà come titolare perché voglio valorizzare molto di più Kamavinga e poi raga non scordiamoci anche che Bellingham l'anno scorso ha fatto comunque una grandissima stagione e merita di scendere in campo il più possibile e comunque raga per il momento restiamo con questi 5 ovvero Rice, Kamavinga, Kauenshi, Bellingham e Socek che direi che vanno più che bene poi COC abbiamo Rosa che deve essere assolutamente venduto qui c'è questo Kampf che è tornato da prestito ma mettiamo in vendita anche lui abbastanza inutile, non ci serve comunque COC abbiamo Fornars che l'anno scorso è stato per tutta la stagione il titolare però per il finale che ha fatto Shoboslai secondo me si merita di avere più spazio comunque diciamo che Fornars e Shoboslai sono due ottimi giocatori da far alternare poi passiamo ufficialmente agli attaccanti abbiamo Ansufati, Reina sulla sinistra vanno più che bene sinceramente Ansufati è il titolare, Reina è il sostituto hanno entrambi il potenziale per diventare speciale quindi sarei un pazzo a venderli andiamo a destra abbiamo Doku e Bowen Bowen può fare anche quest'anno il titolare tranquillamente se lo merita e poi abbiamo Doku che anche lui ha il potenziale per diventare speciale andando avanti abbiamo Antonio che l'anno scorso è stato il giocatore praticamente più rappresentativo e più impressionante della squadra che sicuramente resterà però quest'anno vorrei comunque vendere sicuramente all'R che l'anno scorso non mi è piaciuto per nulla e provare a prendere un attaccante che possa fare la differenza anche in Champions quindi raga l'obiettivo quest'anno è prendere un giocatore per ruolo che possa fare appunto la differenza quindi sicuramente un difensore bello forte un centrocampista bello forte a meno ci si prova col centrocampista e non ne sono certo perché comunque sempre per la questione di appunto valorizzare Kamavinga però non lo so perché appunto serve un giocatore anche più esperto però quello che sicuramente serve è un attaccante una punta centrale bella forte e anche un terzino destro non dimentichiamoci il terzino quindi fatto questo discorso andiamo un giorno avanti diciamo che questa qua sarà una puntata molto introduttiva come al solito quando si inizia una nuova stagione si fa sempre così e poi nella prossima puntata ci andremo a fare si spera tutto il precampionato estivo a meno le prime tre partite sicuramente comunque adesso diamo un attimo qui un occhio QFAL qui è stato ufficialmente venduto al Tottenham quindi possiamo già fondare su un eventuale terzino destro allora signori capitolo terzino destro partiamo proprio da Niles Maitland Niles diciamo che lui mi piace molto perché ha anche capacità ottime di spinta lui appunto è un terzino tutta fascia quindi sa sia difendere che attaccare infatti si andiamo a controllare ok a media media pensavo avesse alta alta come appunto il livello di intensità però invece a media media strada comunque lui è comunque uno che mi piacerebbe prendere abbiamo Dalot anche lui un ottimo terzino ottime capacità un terzino molto molto completo devo dire poi un altro che mi piacerebbe tanto è anche se Gigno adesso lui sarebbe quello più giovane lui corre tanto non ha grandissime capacità difensive lui appunto sarebbe interessante solamente per il fatto che è giovane poi abbiamo James che l'anno scorso abbiamo preso a fine carriera con la Sampdoria lui era comunque molto impressionante lui veramente forte e sarebbe bello provare a riprenderlo per appunto utilizzarlo di più poi appunto andiamo a togliere un giocatore chiave per una squadra avversaria quindi non sarebbe male lui appunto ha ottimi piedi devo dire e poi c'è anche Emerson che è sicuramente fra questi qua quello forse più forte quello con l'overall più alto appunto però non lo so ci sarebbe gente come Arnold però vabbè è chiaro che è troppo esagerato per le nostre casse e poi beh basta ho controllato diciamo c'è gente che appunto ha l'overall ancora troppo basso per le mie aspettative lo voglio che sia quasi un 80 e quindi raga io sono molto indeciso fra Emerson James no perché l'abbiamo già preso l'anno scorso manco Dest perché appunto in difesa non mi ispira però più passa il tempo e più mi sto convincendo di da lotto perché guardare qua ha veramente statistiche perfette cioè comunque sia per quanto riguarda appunto le capacità difensive che per quelle offensive o comunque per quelle della corsa è messo molto bene l'unico problema appunto è che ha infortunio facile però diciamo si spera di non essere troppo sfortunati sotto questo punto di vista quindi raga io un affondo su da lotto lo farei ed eccoci qua a trattare col Manchester non siamo ancora con il nostro allenatore siamo con un assistente comunque nel caso io provassi a dare Felipe Anderson al Manchester appunto cosa dicono cosa mi rispondono vediamo un po' voglio uno Shoboslai loro sono pazzi comunque contro offerta rimuovi lo scambio scambio i giocatori non posso rimettere in mezzo Felipe Anderson purtroppo no quindi sono costretto a mettere in mezzo qualcun altro per esempio Aller anche se Aller vorrei venderlo per una bella cifra quindi mi sembra sprecato in uno scambio del genere quindi vediamo un po' se invece qualche centrocampista mochè che non mi sembra il caso ci ridono in faccia no raga direi tranquillamente di andare di soldi quindi avanziamo offerta no no ho sbagliato no sono stupido era rimasta l'offerta lì degli 11 milioni ho sbagliato e ho fatto quell'offerta e se ne sono andati subito giustamente adesso purtroppo siamo costretti ad attendere una settimana purtroppo qui abbiamo fatto una brutta gaffa comunque si spera che in questi giorni arriva già un'offerta qui ci dicono che arriva un aumento del budget ma come ogni anno mi sa che già è stato implementato occhio che arriva subito un'offerta meno male per Felipe Anderson da parte del Wolfsburg eccoci il quallo la Felipe Anderson non è a 28 anni vale 26 milioni la grafica ci dice che possiamo arrivare massimo a 28,6 e l'offerta del Wolfsburg è esattamente di 26 milioni quindi proviamo ad alzare a 30 semplicemente vediamo un po' i tedeschi qui che ci rispondono eccoci qua vediamo un po' i negozi offerte per il cartellino ecco allora 30 milioni vediamo un po' che ci rispondono avanziamo l'offerta no ma come se ne vanno subito ma non ha senso ma 4 milioni in più ma come il fatto della scorsa volta là per 20 mila euro in più se ne sono andati ma che cosa sta succedendo e niente raga purtroppo è andata così non posso farci nulla comunque andiamo avanti vediamo un po' suggerimenti per la scelta del capitano come sempre qua ci dicono che Rice deve essere il capitano della squadra e occhio che il Wolverhamton ci chiede Doku allora raga per Doku chiederei veramente tantissimo ma tipo 45 milioni perché non voglio assolutamente venderlo e se lo vogliono devono appunto sborsare una cifra allucinante eccoci qua il negozio offerto per il cartellino 45 milioni ecco qua avanziamo offerta sono fermi a 26,6 però almeno loro non se ne sono andati subito hanno avuto il coraggio di restare per un altro tentativo io ripropongo 45 milioni perché appunto non voglio venderlo qui aggiungono una piccola clausola ma non va per nulla bene voglio sempre questi famosi 45 milioni di euro vediamo un po' adesso che ci dicono se ne vanno perfetto è perfetto raga allora come ho già detto inizialmente questa qui è solamente una puntata introduttiva per questa seconda stagione quindi voglio che venga anche un video un po' più breve rispetto al solito che sia anche molto più conciso quindi ragazzi io vi do appuntamento al prossimo episodio dove appunto avremo sicuramente le tre sfide di coppa estiva della fase a gironi contro Sociedad Atalanta e Lazio Real Sociedad per l'appunto e non so se proseguiremo anche con il resto della competizione però sicuramente spero di fare un po' di calcio mercato in questi 15 giorni o comunque quelli che sono e vediamo a quanto tempo arriveremo e poi lì sceglieremo se andare avanti o no comunque queste sono cose che adesso non sono importanti ci penseremo nel prossimo episodio quindi raga mi raccomando consigliatemi più giocatori possibili per appunto per rinforzare il nostro quest'em vi ripeto che mi servono appunto praticamente un giocatore per ruolo diciamo col strezzino destro sono molto convinto di prendere da lotto invece consigliatemi appunto un portiere anche se teoricamente non serve però comunque per sostituire un'eventuale cessione di Fabianski servirebbe un secondo portiere e comunque un difensore un centrocampista un attaccante e tutto il resto della nostra rosa perché appunto a me piace avere tantissimi giocatori in lista per poi andare lì e scegliere con calma quindi raga per l'appunto mi fermo qua vi invito a lasciare un like un commento ma soprattutto ad iscrivervi al canale noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti